guarda la natura che ha fatto ha distrutto tutto peggio dall'alluvione qua nel 2015 che era mese ottobre tutto ma fin qua è percorsa e percorrebbe grazie quest'opera che hanno fatto gli alpini luca del marzo questa è la croce e questo è un altro sentiero che prosegue su montepenna guarda sembra che ha fatto i terramonti è peggio degli terramonti questa è la palizzata quello che rimane e qui parecchia gente transita a piedi si può transitare qui guarda che ha fatto peggio del terremoto ecco qui il fondo valle proseguiamo da questa parte ora la prossima volta sai che faccio salgo qui dalla valle faccio osservare tutta la valle con lo stesso qui tutto è distrutto tutto impossibile di fare questa strada ci vogliono molti soldi soprattutto qua ci vuole opera di puntellamento muro e cemento armato guarda però il panorama è bellissimo proseguiamo proseguiamo ecco qui non c'è il nostro prega niente anzi quello che c'è rimasto vedete ecco il fondo valle grazie 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 grazie